Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4 o PS5, potete contattarmi su uno dei miei social sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.